Una cerimonia di solidarietà zingarisca. Re Petulengo, capo supremo delle tribù stabilite nello Yorkshire e ben noto numero della radio inglese, cavalca incontro alle pittoresche carovane che convogliano gitani, convenuti da ogni angolo dell'Inghilterra per il rito della fraternità del sangue che si compie alla mezzanotte. Una delle numerose regine da operetta del piccolo mondo zingaro offre le proprie labbra al suo sovrano prima dello scoccare dell'ora fatidica in cui Re Petulengo dovrà bucare i lobi delle sue orecchie per sospendervi pesanti orecchini e provvedere col proprio sangue al tatuaggio dei rispettivi nomi sulle braccia dei sudditi delle varie tribù. Re Petulengo, capo supremo delle proprie labbra al suo sovrano,